RITI, una mostra dedicata alla produzione artistica del fotografo Antonio Biasiucci, è un progetto espositivo progettato, allestito e curato dagli studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Arti, Patrimoni e Mercati, in collaborazione con la Triennale di Milano. La collaborazione tra Iulme e Triennale è ormai di parecchi anni. E intende sviluppare un progetto per la preparazione di giovani che possano entrare nelle istituzioni culturali con un ruolo di protagonismo. Quest'anno il protagonista di questo progetto è uno tra i maggiori fotografi e artisti italiani, Antonio Biasiucci. È stata una straordinaria sfida per i nostri ragazzi, al termine della quale è venuta fuori una mostra scandita per capitoli che ruota intorno al tema della ritualità e presenta un lavoro inedito, straordinario, dove viene riletto e reinterpretato il motivo, il soggetto, l'icona delle mozzarelle che diventano simili a dei meteoriti. La mostra è accompagnata tra l'altro anche da una lettura di Tony Servillo che racconta appunto un'esposizione che si muove su linguaggi diversi, la fotografia, la videoinstallazione e l'installazione audio. Mi sembra che una mostra ha una bella aria, c'è un bel respiro. Non è uno spazio semplice quello dello Yuma, è uno spazio impegnativo che mette a dura prova qualsiasi artista secondo me. C'è la sala grande che è impegnativa, in realtà io ho lavorato sul vuoto e non è semplice lavorare sul vuoto. Lavorare sul vuoto è qualcosa di molto complesso, come sono anche impegnativi gli spazi superiori. Non sono dei veri e propri spazi espositivi, sono degli spazi con i quali devi interagire, devi interpretarli. Mi sembra che abbiamo lavorato nel migliore dei modi. La mostra, che sceglie come chiave di lettura il processo rituale, inteso come gesto creatore e distruttore, sarà ospitata dal 4 maggio al 28 luglio 2017 in Yulm Open Space.